L'anno denominata Operazione Pharma, l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e colpisce quattro persone, medici, farmacisti e collaboratori. L'attività è del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valencia e degli agenti del Corpo Forestale dello Stato della stessa città in collaborazione con la sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Locale Procura della Repubblica. Nel mese di ottobre del 2012 gli uomini del Corpo Forestale di Vibo Valencia nei pressi della frazione Caroniti di Ioppolo hanno rinvenuto abbandonate ai margini di una strada provinciale un considerevole numero di confezioni di medicinali perfettamente integre ed ancora in corso di validità. Da qui le indagini con intercettazioni telefoniche e ambientali oltre a filmati ricavati dalle telecamere installate dagli investigatori. Farmacisti e studi medici compiacenti effettuavano la fittizia prescrizione di farmaci ai danni di ignari assistiti esenti dal pagamento del ticket e la conseguente richiesta di rimborso presso l'ASP di Vibo Valencia.